Cocci, partiamo da questa settimana che ti è definita una settimana difficile, al di là delle questioni tecnico-tattiche. Una settimana dura, perché quando esci da una partita brutta come a Trieste, con le ossa rotte, ne nasce una settimana dura, perché chiaramente viene fuori il peggior lunedì, nel senso che tutti vengono giustamente messi in discussione, vengono fatte analisi, un po' di pancia, un po' di testa, si cercano soluzioni anche cercando di aiutare la squadra dal punto di vista del mercato, ma il mercato non è facilmente aggredibile, nel senso che è un qualcosa che richiede anche la necessità di risorse economiche, quindi una settimana di confronti all'interno della squadra, una settimana di confronti all'interno del club, una settimana di confronti anche con tutte le compagini che sono vicine alla palacanestro pistoiese, quindi i tifosi. Quindi una settimana dura, assolutamente una settimana dura, dove sono state spese, giustamente, tante parole, tutti quanti le hanno spese, con intento positivo e costruttivo, però poi voi sapete che il nostro lavoro è un lavoro che si chiude la domenica, e si chiude la domenica con una partita e quando c'è una partita le parole poi stanno a zero e contano solo i fatti, quindi la reazione che noi dobbiamo essere in grado di dare e di mostrare la dobbiamo mettere in campo con i fatti nella partita di domani sera, perché tutto il resto poi alla fine rimane ai margini. A rendervi ancora più la settimana difficile, il fine settimana difficile, arriva Cremona che forse è la squadra che ha sorpreso di più in questo inizio di stagione. Sì, Venezia e Milano non sono una sorpresa, Cremona lo è, in questo momento è terza in classifica, dietro alle prime due ha vinto due trasferte a Trento la prima giornata e a Bologna nettamente quasi di 20 punti due settimane fa, ha vinto in casa contro Sassari e contro Avellino che sono due squadre di grande ambizione all'interno del campionato, ha perso anche nettamente questa partita in casa con Cantù, è una squadra che sta bene, è una squadra che gioca bene. Meglio gioco ragionato, rallentare un pochino? No, noi dobbiamo partire da un qualcosa che in queste ultime due partite invece abbiamo fatto fatica a fare, cioè ad avere una presenza difensiva diversa, ecco noi dobbiamo veramente giocare con una diversa cattiveria a livello di duelli individuali, di capacità di protezione della nostra area, una cosa che nelle ultime gare, ma in generale all'inizio di questo campionato abbiamo fatto veramente con poca cattiveria, con poca determinazione, con poca durezza e questo è il primo passo dal quale si deve partire. Grazie!